I disordini che forse sono stati provocati, anzi credo proprio come testimonia oculare provocati da ragazzi da fascinorosi non così del corpo sano di questa splendida manifestazione, quegli incidenti hanno determinato un po' il frantumarsi e forse un po' l'insuccesso ma la partecipazione è stata così enorme, così plateale dall'inizio che si è commentata da sé è iniziata pacificamente, certo, si sa che c'è qualcuno che preferisce portare altri elementi e rovinare un po' questa manifestazione è la volontà della piazza che si è stufata ma il comportamento della polizia non li giustifica per niente perché hanno completamente esagerato ogni forma di reazione, completamente perché c'è sempre qualche stronzo che non sa bene cosa deve fare nella sua vita e viene qui a combinare guai